Impegno e merito, una ricetta sicuramente vincente non solo nella scuola ma anche nella vita per premiare i ragazzi folignati delle scuole superiori della città che per ogni indirizzo hanno conseguito la miglior votazione nell'ultimo anno scolastico, la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno da Tempoli gratifica con un premio allo studio. Ieri la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati a 35 ragazzi, per ciascuno di loro anche un assegno da 1000 euro donato dalle mani del presidente della Fondazione Gaudenzio Bartolini nel Salone d'Onore di Palazzo Cattane alla presenza di numerosi parenti e docenti. L'assegno che abbiamo consegnato vuole essere un ulteriore stimolo ed in parte un sostegno a proseguire su questa strada, ha spiegato ai ragazzi il presidente Bartolini. Alcuni di loro sono già a lavoro, altri stanno intraprendendo studi universitari di rilievo, una risorsa preziosa per il territorio e nella quale la Fondazione punta molto, proseguendo il suo impegno per il mondo scolastico dopo aver assegnato in pochi mesi 10 borse di studio. Domani questi ragazzi saranno protagonisti del mondo del lavoro, mettendo le loro professionalità a servizio della comunità, ha detto Bartolini, contribuendone alla crescita economica e sociale. Ci auguriamo che questo sia un messaggio che anche altre istituzioni accolgono perché è di fondamentale importanza tornare al merito. La Fondazione Cassa di Rispermio di Foligno è da molti anni che ha attivato questa premiazione che, devo dire, non è la sola operazione rivolta all'istruzione e ai giovani. La Fondazione è molto attenta ai giovani e alla formazione dei giovani.